Io rappresento l'Istituto Luigi Sturzo, che in collaborazione con l'Unitelma Sapienza, l'Università Telematica, tra le principali e più ovviamente professionali del nostro Paese, abbiamo lanciato questo Master che riguarda l'antiriciclaggio e i sistemi di compliance. L'antiriciclaggio dovrebbe essere almeno della prevenzione del riciclaggio, cioè della ripulitura di denaro sporco che proviene dai flussi finanziari illeciti. Flussi finanziari illeciti che purtroppo ormai da diversi anni a questa parte hanno sicuramente volumi nettamente superiori ai flussi finanziari illeciti. Quindi l'economia illegale è un'economia che ha dei volumi e della produttività del reddito superiore all'economia legale. E specialisti nella materia dell'antiriciclaggio, quindi che riescono aiutando i destinatari della normativa antiriciclaggio, che è una platea che è andata via via aumentando nel tempo, ovviamente non ce ne sono molti e quindi almeno molto preparati e che si sanno districare nell'applicazione di questa normativa. Normativa che a partire dal 1991 fino al 2018 ha visto ben cinque direttive dell'Unione Europea. Direttive dell'Unione Europea che ovviamente si ispirano a livello internazionale alle cosiddette raccomandazioni, cioè agli standard internazionali del GAFIN, che è il gruppo d'azione finanziario internazionale, che attraverso le proprie raccomandazioni elabora via via nel tempo quelli che sono gli strumenti per poter arginare il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Perché tante direttive in uno spazio tutto sommato di un lasso di tempo abbastanza contenuto? Perché le tecniche di riciclaggio ovviamente vengono affinate in continuazione. Basta pensare che negli ultimi due anni lo strumento di pagamento con il quale si ricicla di più nel nostro Paese sono i bonifici, non è più il contante. Perché ormai i riciclatori o i consulenti delle organizzazioni criminali si avvalgono di mezzi di strumento tracciabili per riciclare il denaro. La normativa antiriciclaggio è una normativa composta a livello operativo molto difficoltosa da applicare. Basta pensare che nel nostro ordinamento il decreto che si collega la normativa primaria antiriciclaggio è un decreto del 2007 che non è stato abrogato dai decreti che hanno ricevuto la quarta e la quinta direttiva antiriciclaggio ma è stato modificato via via. Per cui se io oggi devo dire qual è la normativa primaria antiriciclaggio nel nostro Paese, devo dire esattamente il decreto legislativo 231 del 2007 come modificato dal decreto legislativo 90 del 2017 che ha ricevuto la quarta direttiva antiriciclaggio e dal decreto 125 del 2019 che ha ricevuto la quinta direttiva antiriciclaggio ma ha anche modificato il decreto numero 90 del 2017. Quindi come vedete si tratta già a questo punto di dover interpretare e applicare bene anche semplicemente citandone i riferimenti normativi, la normativa primaria antiriciclaggio. La platea di destinatari cui il decreto rivolto è divisa in cinque categorie perché inizialmente chi potevano essere i guardiani del riciclaggio quindi prevenire e aiutare poi le autorità investigative e di vigilanza a frenare e a contrastare il fenomeno del riciclaggio erano semplicemente gli intermediari bancari e finanziari. I miei visi si sono aggiunti i professionisti, si sono aggiunti le agenzie immobiliari, si sono aggiunti ultimamente ovviamente con molta più attenzione anche le case da gioco e chi offre anche il settore dei giochi scommessi anche online. Applicare la normativa primaria ma non solo, tutta la normativa secondaria che viene emanata dall'autorità di vigilanza di settore, per esempio per le banche e gli altri intermediari finanziari e la Banca d'Italia, l'IVAS e per le compagnie assicurative e via dicendo non è sicuramente facile, agevole. Tra l'altro quando è uscito il decreto di ricevimento della quinta direttiva antiriciclaggio il percorso normativo della quarta direttiva antiriciclaggio ancora non è stato ultimato, tant'è vero che ancora aspettiamo un decreto del Ministero di Economia e Finanza di intesa con il Ministero di Sviluppo Economico il cui termine di emanazione è stato benché prorogato e scaduto a luglio di quest'anno e ancora non se ne vedono. È un decreto molto importante perché fissa a livello di trasparenza delle società quelli che devono essere i titolari effettivi che le società stesse devono comunicare al registro delle imprese. Quindi specialisti antiriciclaggio ce ne abbiamo bisogno. Questo master antiriciclaggio sui sistemi di compliance intende proprio formare dei professionisti, degli esperti della materia antiriciclaggio perché il riciclaggio non si ferma, continua. Le tecniche di riciclaggio da parte delle organizzazioni criminali e dei loro consulenti, come dicevo prima, si affinano sempre di più. Quindi è un po' una corsa ovviamente a perfezionarsi sempre di più e a cercare di frenare l'economia illegale che ricordo ha volumi sicuramente più alti e maggiori dell'economia legale.